Ciao ragazzi da... Aspettate, aspetta santo... Da Altra41 siamo qui nel mio garage, vediamo... Ok, voglio farvi vedere in pratica una bella cosa di questa macchina, uscite? Vabbè, una... Si, ok, è un Volkswagen Pro, ultima serie, la quinta serie, eccola qua. Allora, in pratica vi devo farvi vedere la chiusura automatica dei finestrini. Vediamo subito... E anche l'apertura. Cos'è la chiave? Ora, faccio un vent'altra volta e vi faccio vedere bene. Allora, chiusemelo. Eccola qua. Allora, come avete visto, si sono chiusi in pratica tutti e quattro i finestrini. Vi faccio vedere bene. Vi faccio vedere. Eccolo qua. Così si vede bene. Ora faremo cosa nello stesso procedimento con l'apertura. Vediamo come fai l'apertura. Cacciando questo bussante, ragazzi. Vediamo subito. Eccolo qua. Voila. Vedete? Ci sono aperti tutti e quattro i finestrini. In automatico. C'ho... Come avete visto, vi ho fatto vedere sia la chiusura che l'apertura delle finestrini. Chiusura che in pratica, facendo così... Facendo così, si chiude automaticamente. Basta ancora chiare. Invece, l'apertura... Si deve soltanto spingere il tasto. E tenere premuto, ragazzi. Perciò... Non... Non lo... Lasciate perché oppure... Si aprono la metà. Va bene, ragazzi. Ricordiamo. In automatico. Da Underground 1 con questo breve video che... Ve l'ho voluto farvi vedere. È tutto. Ehm... Niente, ragazzi. Seguitevi sempre su... La mia... Page di Underground 1. Sul mio gruppo sempre di Underground 1 Tutorial. Su Facebook. Se volete da... Mi volete chiedere... La cosa... Amicizia. Non esitate a farlo. E... Niente. Commentatevi... Mi piace... E condividete questo video. Se volete. Ciao, ragazzi. Alla prossima... Puntata del vlog video giochi. Ciao. Ciao.